Il processo sul cosiddetto sistema montante per il momento rimarrà a Caltanissetta e non sarà trasferito a Catania. Il Tarra Lazio infatti ha accolto il ricorso del sostituto procuratore Pasquale Pacifico, attuale sostituto al Tribunale di Caltanissetta, sulla nomina di Nicolò Marino, GIP del Tribunale di Roma, procuratore aggiunto di Caltanissetta, e quanto ha affermato in aula il pubblico ministero Maurizio Bonaccorso. Domani intanto il Consiglio di Stato dovrebbe dichiarare il neologo a procedere sull'appello cautelare proposto da Nicolò Marino in considerazione del fatto che già è intervenuta la sentenza di merito. Nell'udienza dello scorso 5 gennaio Marino, tramite il suo legale, aveva comunque comunicato di rinunciare alla sua costituzione di parte civile, da cui l'ipotesi di trasferire il processo a Catania. Si attende quindi ora la decisione di Marino per un eventuale appello alla decisione del Tarra del Lazio.